Buonasera cari amici e ben ritrovati anche questa sera ad Happy Hour. Oggi parleremo di un argomento molto profondo. Vedremo che nonostante il processo tecnologico e l'iperattività della rete, sempre molte più persone cadono in solitudine e condizioni di malessere. Questo perché lo approfondiamo con il dottor Andrea Rocchitelli, psicologo. Allora abbiamo detto questa condizione di solitudine, di malessere che oramai accomuna tantissime persone. Ma accomuna tantissime persone, diciamo ci siano queste condizioni così drastiche di malessere. Sì, sembra paradossale che non sanno ascoltarsi. Perché sono connesse con apparenti amici. Si vive l'illusione di una comunità virtuale. Internet ci porta ad azzerarci nella vita reale, potrebbe essere. Purtroppo tante più. Difficile, è davvero difficile interpretare i propri sogni. Sì, basterebbe avere un tacui. Belli, ma nell'uso diciamo esagerato di questi social ci può essere proprio un insorgere di patologie psichiche anche? Assolutamente, soggetti. Si potrebbero fare delle sedute vere e proprie, delle sedute di psicoanalisi. Ecco, ma in un mondo come quello in cui viviamo oggi, dove siamo tutti di fretta, tutti di corsa, perché dobbiamo andare a lavoro, perché dobbiamo fare tantissime cose. Quanto è importante fare una seduta, diciamo, di psicoanalisi di tre ore, della durata di tre ore? Quindi si libera dai propri condizionamenti interiori. Ecco, questo potrebbe essere, diciamo, il caso degli adolescenti, adolescenti a cui vengono inculcate, se vogliamo, delle cose dai genitori. La seduta, cioè di per sé, in che cosa consiste? Non ha più questo sintomo che regola la propria disordinata esistenza. Quante sedute bisogna fare per, in qualche modo, ritrovare se stessi? Allora, non le nascondo che è la cosa più difficile. E per tutti? Ma, sul lettino... Per tutto vedere, per la sua esperienza, quando una persona termina questa seduta di micro psicoanalisi, come si sente? Come lo vede rispetto a come è arrivato? E la vita non è altro che un tentativo di recupero di... Le sedute possono essere importanti proprio per ritrovarsi. Ecco, internet, come dicevamo, è un qualcosa che ci allontana appunto da questa conoscenza, però in qualche modo serve anche quello. Diciamo che ci sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi. Grazie. Grazie.